Allora, Draghi ottiene la fiducia, 172 sì, ma sale al Quirinale per fare una verifica di governo. Detto questo, bisogna vedere lui cosa accetta. È un governo balleare, ballerino. Renzi propone, vabbè, cambi ministri, chiedi il voto in Parlamento. Però è un governo di unità nazionale, non è un governo politico questo. E quindi cambia la maggioranza. Io non so che cosa vuole fare l'uomo. Chi glielo fa fare di stare lì altri sei mesi. Se lui tornerà in Parlamento con uno schema programmatico, poi bisogna vedere le destre se gli danno il voto. Cioè, è sempre un governo esposto a mille problemi, mille problematiche, capito? Io non ce lo vedo a portare la croce, capito? Poi lui è un uomo che ha un sacco di incarichi, di interessi extra parlamentari, extra politici. Insomma, non ha problemi per farsi una carriera. Chi glielo fa fare di stare lì a prendere gli schiafoni? Io non lo so. Dipenderà tutto dalle volontà, dalla volontà di due uomini, di futuro del paese. Da Mario Draghi, dalla sua dignità, e da Mattarella. Perché anche Mattarella poi ovviamente cercherà di tenere insieme le fila, di cucire. Le diremo, vediamo.